Diego, oggi un tassello fondamentale per la salvezza. Sì, sicuramente sì, anche perché veniamo da tre sconfitte, di cui due in casa. E quindi diciamo che questa vittoria è molto importante, non solo per quanto riguarda la classifica, ma anche per noi a livello morale, quindi siamo molto contenti. Al di là delle tue triple, delle tue giocate offensive, oggi veramente c'è stata una grandissima dedizione a livello difensivo. Hai fatto una difesa su De Loce, hai preso quello sfondo di De Loce alla fine del terzo quarto, che è veramente qualcosa di clamoroso, che ha fatto saltare pedale al palazzetto. Ma sì, sicuramente abbiamo lavorato tutta la settimana, soprattutto sulla difesa, perché Ravenna ha un ottimo attacco. e quindi ci siamo concentrati soprattutto sulla difesa, partendo dai piccoli dettagli. Siamo stati bravi tutti, perché comunque siamo stati sempre lì per 40 minuti. È stata davvero una bella partita, anche perché è stata molto combattuta. Adesso un mese lontani dal Pallatricalle, si torna qui il 4 di aprile addirittura, con due partite veramente molto complesse davanti, come quella contro Treviso prima e poi Arre Canati. Sì, sicuramente sono due partite molto importanti. Sicuramente noi continueremo a lavorare duro in queste settimane, anche perché il ritmo della partita un po' lo perderemo, perché comunque stare... cioè non giocare per una settimana, comunque un po' a livello di ritmo perdi. Comunque noi siamo lì e niente, dobbiamo pensare domenica per domenica senza farci nessun pensiero. Comunque noi siamo lì e niente.